Comincia dunque il penultimo atto del mondiale, c'è grande entusiasmo, tifo correttissimo fino a questo momento. Ed ecco l'inno di maniera. Tutto è pronto, votrò, fischia l'inizio, semifinale del campionato del mondo. Maradona, ancora poi Basualdo e c'è questo gran tiro di Burruciaga con Zenga costretto in calcio d'angolo. Pericolo. Serizuela, e vedete che Schillacci in qualche maniera riesce a sgusciare via. Calibra poi bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol! Bene, gol di Schillacci ancora! Ancora Totò! Ancora Schillacci sul primo affondo italiano e il suo momento magico. Ma lì c'è stata una mischia, quindi, contro mischia, quindi non me l'aspettavo nemmeno io, che poi colpì la palla con la tibia, quindi mi trovai lì. Però è bello trovarsi al momento giusto, quindi infatti quando io fece il gol, vorrei forse perso l'angolo della banderina, mi sembra. C'era Giannina dietro e diceva che culo che c'hai ogni volta. Eccolo, ancora inquadrato, il suo quinto successo personale. Palla ancora per Maradona, bravissimo a smarcarsi, si gira con una giocata di prestigio, ma Zenga c'è. No, partito è durissimo, partito fuori, durissimo. Duro, duro di correre, correre, imponersi, imponere. Calcio d'avvio degli azzurri. Palla per Maradona, ora Maradona cerca una soluzione, la trova sua, l'Artico Ecea parte il traversone, l'uscita di Zenga, il pallone che termina in gol. Wipi ha preso un gol non irresistibile, in maniera forse inattesa. Il gol di Canigia toma la pelota per la izquierda, il basco l'Artico Ecea, e la tira con la derecha al centro. Il canigia non se ne aspettava nemmeno lui di fare gol. Il canigia pareggio è sabile, perché se è saltito la peinona da mano. Tra l'altro è colpito pure di nuca. La peinona toccò e lo collocò a tutto. E l'Argentina riesce a pareggiare. Siamo al ventitreesimo del secondo tempo, uno a uno. I tempi regolamentari non bastano a determinare la finalista. Si va ai supplementari. Calcio d'avvio dell'Argentina, Maradona. Probabilmente batterà Baggio. Pensa il miracolo di cui Ecea, bravissimo Baggio. Intanto è a terra Baggio, è a terra Baggio. Escursione per giusti. Non fischi ancora Votrò, incredibile. E poi vino la larghe che durò, per me, un anno durò la larghezza, no? Recupero di quasi otto minuti sui quindici previsti. Va Baggio a proteggere il pallone. Scambia con Schillaci. Ancora Baggio, 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 Baggio. Mette in mezzo all'ultimo momento. Serri Zuela in calcio d'angolo. Abbiamo attaccato ancora, quindi abbiamo costruito, abbiamo cercato la vittoria. Mette dentro, ma stavolta forse l'offside non c'era. Perché alcuni di noi, io personalmente, non volevo andare ai calci di rigori. L'Argentina tiene botto anche in dieci. Secondo tempo supplementare. Si profila lo spauracchio dei calci di rigore. Ultimo minuto. Va Serena e ancora Battista, sempre lui. Puntavano molto ad andare sui rigori. Infatti, certe volte spezzestavano il gioco con molti falli, perdevano molto tempo. Ammunizione per Battista. Mentre Donadoni butta in mezzo, palla fuori per Baggio. E stavolta, potrò, fischia addirittura solo con 7-8 secondi di recupero. Neanche i supplementari stabiliscono il vincitore. Per la prima volta a un mondiale, l'Italia decide il suo destino. Ai calci di rigore. Franco Barresi. Breche. Un tiro e un gol per l'Italia. Serizuela. E spiora Zengama, non riesce a trattenere. Roberto Baggio. Si, brivido, ma è andata dentro. Turruciaga. Gol. 2-2. De Agostini. Gol. Oh, l'Artico e Cea. E gol ancora. Donadoni. Ai! Dal dischetto Maradona. E' segna. Quattro tiri, quattro gol per l'Argentina che veramente ha un passo dalla finalissima. E va serena a tirare dal dischetto. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. E' difficile affrontare questo momento perché io, tra l'altro, mi ricordo che sono rimasto seduto un'ora dentro lo stile. Spogliatoio quasi quasi, insomma, mi veniva da piangere. Quindi aver perso una finale senza aver mai perso in campo. Così, insomma, si è perso una finale che, insomma, avremmo meritato, non è dubbio.